Guglia, apri gli occhi che questo ti scama come un polipo. Vabbè, ovvio che vince l'ispettore. Chi? Alla Berta. Guardi che l'ispettore è un esperto di arti marziali. Ha tutti i DVD di Walker, Texas Ranger. Vabbè, scomettiamo. Tranquilla, Berta. Facciamo presto e non ti faccio male. Ti ho detto di non chiamarmi Berta. Cagiu. 50 euro. Ci sto. E ci metto sopra tutta la collezione di Star Trek. E che cazzo me ne faccio? Scusi. Saluto. Piedi. Allora, le regole le conoscete? Mi raccomando. Saluto. Pronti? Via. Sai qual è il tuo problema, bambina? Che non hai visto Karate Kid per vincere domani. Bestiale. Waka! Sì! Brava, Berta! Sbaglalo! Berta, Berta! Minaggio come dei bambini. Questo non è arte marziale. A vostro posto. Procedo, non te la gravi, consigliere. Ci avevamo quasi fatte, ispettore. Se non era per il maestro, l'ammazzavo.